Rieccoci con Stare Bene, questa parte appunto la dedicheremo all'importanza dell'alimentazione e del movimento per le persone over 50. Ci dedicheremo soprattutto alle donne perché parleremo anche di osteoporosi e di menopause. Lo faremo in compagnia delle nostre ospiti. Un ben ritrovato, Lucia Vignolo, nutrizionista, con cui parleremo più dell'aspetto ovviamente alimentare, ma anche delle regole di corretto stile di vita. Esattamente. Un punto su cui tu picchi molto. Sì, perché mi occupo del comportamento soprattutto. E allora capiremo anche quali sono le regole più importanti e poi parleremo anche di movimento. In compagnia di Michela Verardo, ben ritrovata. Ciao Giorgia. Personal fitness trainer che però ci mostrerà anche qualche esercizio pratico da poter fare ovviamente in casa, anche adesso mentre ci state guardando, perché no, per seguire un po' i consigli che servono anche per iniziare bene la giornata, capire subito da dove partire. Perché alimentazione e movimento sono fondamentali a ogni età, l'abbiamo capito anche grazie ai vostri approfondimenti nel corso delle nostre trasmissioni, ma lo sono ancora di più dopo i 50 anni, sia per gli uomini che per le donne. Forse soprattutto per le donne perché ci sono alcune patologie, alcuni disturbi come l'osteoporosi, alcune malattie che possono colpire soprattutto le donne. Sì, vuoi che cominciamo a parlarne? Sì, 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 cerchiamo di capire proprio perché. Partiamo. Perché Lucia è importante mangiare bene e soprattutto poi anche fare movimento, soprattutto per le donne. Allora, le donne sono animali complessi, più complessi degli uomini come notano, nel bene e nel male, nel senso che magari saremo più integrate, come diciamo per darci un po' di tono, psichicamente più integrate, però siamo anche psichicamente più forti e più fragili nello stesso tempo. Più forti perché abbiamo sicuramente tante risorse per superare traumi che a volte l'uomo non supera così facilmente se non con l'aiuto esterno. E nello stesso tempo più fragili perché è chiaro che una grande complessità dà adito, diciamo, ad avere più punti di attacco per la depressione, per il malumore o proprio per dei problemi, per delle nevrosi, diciamo. E l'invecchiamento per la donna è uno di questi fattori scatenanti, diciamo. Perché? Intanto perché la donna ha un'immagine, diciamo perché l'immagine per la donna è più importante che per l'uomo, per tutte le ragioni che sappiamo e non stiamo a ripeterle. E poi perché? Perché la donna col passare degli anni perde la fertilità. E la perdita della fertilità dal punto di vista psichico, se ci pensiamo, è un po' una perdita di una funzione importante, anche nel mondo di oggi. In fondo, dentro dentro, la perdita della fertilità significa che siamo un po' più inutili di prima, anche se è soltanto una percezione. E queste cose vanno affrontate quindi con consapevolezza. Cioè, è inutile nasconderci che esistono questi problemi, ci sono queste reazioni al passare degli anni. Però spesso sono anche percezioni inconsce. Sono inconsce, certamente. E proprio perché sono inconsce, cercare di ragionarci sopra ogni tanto e di esserne consapevoli ci aiuta ad attivare delle azioni, dei processi, delle azioni che vadano a compensare questi problemi. Che ripeto, sono molto inconsci, quindi ci colgono alla sprovvista, no? Che cosa succede spesso? Io lo noto nelle pazienti di una certa età, insomma, che poi anche la mia età, perché anche io ormai sono abbondantemente in menopausa e così via. E succede che spesso si deprimono per delle cose che potrebbero benissimo essere risolte. Si spaventano a priori. Non lo so, si avvicinano a menopausa oppure vanno in menopausa chirurgica come spesso succede oggi, nel senso qualche problemino, ti levano ovaie, utero e tutto, e te ti ritrovi in menopausa da ieri a oggi. E dici, chissà cosa succederà. Anche a me era capitato, no? Anch'io, menopausa chirurgica dall'oggi al domani. E anche io mi sono detta, ora cosa succederà? Perché il cambiamento comunque fa paura. Perché fa paura il cambiamento e si pensa che questo cambiamento sia poi così grosso, in realtà non è, è un cambiamento abbastanza naturale, che diventa grosso soprattutto se crediamo che sia grosso. E diventa difficile soprattutto se pensiamo che sia difficile. Poi è chiaro che ci sono i casi particolari, però i casi particolari spesso, le difficoltà della menopausa, sono spesso associate in realtà a delle difficoltà altre, no? Cioè uno ha il diabete, è chiaro che è la menopausa con un diabete, è più complessa che non la menopausa senza un diabete e così via. Quindi la prima cosa da fare per le persone over 50, soprattutto per le donne, è quello di cercare di capire che non c'è poi niente di così drammatico. Se non il fatto che il tempo passa non siamo più quelli di prima, ma questo è normale, questo è... Però ci sono degli accorgimenti, magari anche dal punto di vista alimentare, poi cercheremo di capire invece quelli più fisici, quindi che riguardano il movimento e il prendersi cura di sé attraverso lo sport o il movimento. Dal punto di vista alimentare... Diciamo che bisognerebbe seguire ancora più attentamente quelle regole che dovremmo seguire già fin da giovani. Però, mentre finché siamo giovani c'è una compensazione, cioè l'organismo è molto attivo, è molto... cioè riesce a riparare i danni più facilmente. Chiaro che mano a mano che passano gli anni, ma non è solo una questione di menopausa, è proprio una questione del passare del tempo, no? Quindi mano a mano che gli anni passano, il nostro organismo ha capacità riparative minori, anche solo per il fatto che i tessuti non sono più... Hanno sempre un loro turnover, nel senso che i tessuti continuamente si rigenerano, però il tempo di rigenerazione di qualsiasi nostro tessuto tende a rallentare con l'età. Questo fa sì che i danni vengano riparati meno. Gli organi emuntori, che sarebbero poi quelli che ci liberano delle tossine, delle scorie, delle sostanze di rifiuto, funzionano un po' meno, un po' meno efficacemente. Quindi c'è una maggiore facilità di accumulo delle scorie. Quindi è chiaro che diventa molto più importante mangiare veramente bene. E una cosa importantissima è mangiare cose nutrienti. Cioè, noi abbiamo... il nostro organismo ha una buona capacità di crearsi le sostanze che gli servono, a partire da molecole a volte anche diversissime, da quelle che poi sono il risultato finale. Però, diciamo che, proprio perché questi meccanismi tendono a rallentare, l'assorbimento intestinale a volte non è più lo stesso di prima, è sempre più importante rifornirci dei nutrienti, che siano questi i precursori delle vitamine o le vitamine stesse, prendiamole, o i giusti aminoacidi, eccetera. Cosa che invece non avviene, anzi avviene il contrario. Spesso l'anziano mangia male, mangia un po' più a caso, mangia un po' più raffazzonato. Forse anche perché se spesso gli anziani... ne parlavamo giusto prima con il nostro ospite, il dottor Pollumere. Gli anziani sono soli in casa. Anche lo stimolo di preparare qualcosa da mangiare, se viene magari il nipote, l'amico, è un discorso diverso. Ma se sono da soli o da solo, o marito e moglie, però ormai se facciamo sta minestrina, che ci sta però? Bisognerebbe cercare di essere consapevoli che il cibo deve darci dei nutrienti, non soltanto qualche caloria o riempirci un po' la pancia per non avere il buco nello stomaco. Allora tra poco magari indicheremo anche quelli che sono i cibi più importanti, quelli che veramente bisognerebbe eliminare, quelli invece di cui non si può fare a meno. Ma parlando invece di movimento, dopo una certa età, quindi come diceva appunto Lucia, il periodo della menopausa è un periodo particolare per le donne, perché è cambiamento, è cambiamento anche fisico, e quindi che cosa fare, insomma, a livello proprio pratico anche? Sì, allora intanto per completare il ragionamento di Lucia vorrei dire una cosa, cioè il fatto che quando si parla di menopausa, la mia impressione, io sono ancora relativamente lontana dalla menopausa, diciamo, però ho sempre l'impressione che si veda la vita di una donna come divisa in due parti, cioè il pre-menopausa e il post-menopausa, no? Mentre fortunatamente gli uomini, ah, loro hanno questa soluzione di continuità meravigliosa, per cui non hanno un ciclo vitale, invece la donna ha la vita divisa in due. In realtà poi è così, però noi dobbiamo cercare di costruire una buona vecchiaia in gioventù, quindi per arrivare a non dover avere l'ansia di fare delle cose alle quali non siamo completamente abituati, nel post-menopausa, vedi, mangiare bene, fare movimento, mangiare poco, avere un certo stile di vita, bisogna cercare di costruire il tutto fin da ragazzi, fin da bambini, vorrei dire, perché quando parliamo di menopause non possiamo non parlare di problemi di osteoporosi, perché è chiaro che non possiamo farlo. Dobbiamo anche dire, ad esempio, che il picco, diciamo, osseo, cioè il massimo della capacità dell'essere umano di accumulare calcio, quindi di accumulare densità ossea, si ha nel periodo della pre-adolescenza-adolescenza, quindi tra i 12-14 anni per le femmine, tra i 14-16 anni per i massimi. E si costruisce il futuro, insomma. Quindi è lì che bisogna costruire l'anti-osteoporosi, da un punto di vista vero di prevenzione, e poi continuare a fare attività fisica, avere una buona educazione alimentare, fino ad arrivare poi ad avere un perimenopausa e poi un passaggio alla menopausa che siano, come dire, più tranquilli, meno ansiogeni e vissuti, quindi anche da un punto di vista psicologico, in maniera più rilassata per ogni donna, perché è un passaggio, non è una divisione netta. Però purtroppo è un po' così in tutti gli aspetti, cioè si corre ai ripari nel momento in cui se ne ha l'esigenza, probabilmente c'è forse poco anche la tendenza, la cultura di partire già da bambini, della prevenzione, magari più negli ultimi anni si sta sottolineando questo aspetto. Sì, anche perché ad esempio a ottobre si celebra la giornata dell'osteoporosi e viene fatto, c'è questo momento di propaganda, dove si parla molto di questo aspetto. L'ultima giornata dell'osteoporosi che è stata ad ottobre, ho visto dei sondaggi dove soltanto il 18% degli italiani sono consapevoli del fatto che l'osteoporosi si previene e l'82% pensa di doverla curare. Questo è un dato che è veramente molto importante, ci fa capire quanto si percepisca la malattia e non la capacità propria invece di poterla prevenire, quando invece è tutto naturale, è tutto fisiologico. Cosa ti posso dire? L'attività fisica fa bene per tutto e fa bene anche per la donna in menopausa e per tutti, anche gli uomini per carità, che non vanno in menopausa, ma anche per gli uomini over 50. Tra l'altro tra poco sentiremo anche un sondaggio proprio che abbiamo realizzato tra gli uomini e le donne over 50, diciamo così, per capire se le persone fanno movimento. Perché con voi abbiamo approfondito più volte questo aspetto, molti fanno movimento, molti lo intendono anche semplicemente come corsa, come una passeggiata, tanti altri lo fanno veramente come sport, ma in tanti invece fanno zapping sul divano, come ha detto simpaticamente un signore che abbiamo intervistato. Che bello. Allora, io posso dirti che intanto tutte le attività che possono essere la camminata, il fare le scale, la corsa nel caso in cui non ci siano delle prescrizioni di non fare perché magari si hanno avuto degli infortuni, dei traumi e quindi si evita la corsa. Il ballo, che è anche divertente, anche divertimento, no? Piuttosto che il nuoto in qualche modo, tutte le attività in acqua. Ecco, le attività in acqua vanno bene perché comunque rinforzano la muscolatura, perché hanno un impatto, diciamo, sulla mobilità articolare molto buono e anche sull'allenamento cardiovascolare. Se parliamo di osteoporosi, non hanno una funzione sulla fissazione del calcio sulle ossa, quindi benissimo l'attività acquatica, però se il nostro obiettivo è quello di aiutare la ridensificazione ossea con l'attività fisica, non è il nuoto l'attività. Poi tutte quelle attività che servono per migliorare la coordinazione, per migliorare l'equilibrio e anche proprio per rendere il fisico più, come dire, pronto, più abile a evitare una caduta, a evitare un trauma muscolare, a evitare un trauma osseo. L'attività di potenza, cioè che potenzino un pochino la forza, quindi i pesi, gli elastici, ad esempio, e so che quando parlo di questo magari le persone che non si sono mai allenate o per cinque anni dicono, ma come, fino ad ora sono sempre stato bene, adesso dopo i cinquant'anni mi metto a fare i pesi. Quindi, sì, piano piano, gradualmente, con estrema gradualità si può fare tutto. Allora, tra poco vedremo anche un esercizio pratico da poter fare in casa, in questo momento tranquillamente. Prima però di fermarci qualche istante, consigli proprio flash, cibi sì e cibi no, soprattutto per chi soffre di osteoporosi, Osteoporosi, so che non è un discorso proprio così drastico, però ci sono cibi che è meglio evitare, cibi invece che è giusto consumare. Non è facilissimo dire cibi sì, cibi no, perché in realtà non è proprio così. Ripeto una cosa che ho già detto nelle altre puntate, tra i cibi no i formaggi, perché invece la persona anziana viene sempre consigliata di utilizzare tanto formaggio, non dico di azzerarli, ma comunque poco formaggio, questo è fisso, questo è un consiglio flash che sembra controtendenza, ma in realtà è così. E va sempre bene. E un'altra cosa flash che posso dire, bisogna dimagrire se si è grassi, è meglio essere anziani magri per tutta una serie di motivi che poi dopo se vuoi spieghiamo, ma uno dei, forse il primo, anche se può sembrare assurdo, è quello psicologico, cioè è meglio invecchiare da belli che da brutti. Cioè una donna che si veda un pochino più in linea, che si veda ancora carina, ancora apprezzabile, sta meglio, proprio sta meglio di salute. Questa è forse una delle forme di prevenzione primaria principali. E allora come vedremo, approfondiremo anche questo aspetto. E vedremo che è possibile farlo. Assolutamente, l'aspetto psicologico quindi è sempre fondamentale e insomma si interseca con quelli che sono gli aspetti alimentari e gli aspetti fisici. Ci fermiamo qualche istante, ma rientriamo tra pochissimo. Grazie. 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 Grazie.